Lavoro solo per mio figlio Santiago, la confessione che ha scioccato tutti. Visita il sito gns247.net per seguire le ultime notizie. Stefano De Martino, noto conduttore televisivo ed ex ballerino, è recentemente approdato ad Affari Twy, prendendo il posto di Amadaus e rivelando un nuovo capitolo della sua carriera. Ospite del programma 5 minuti condotto da Bruno Vespa su Rai 1, De Martino ha parlato a cuore aperto delle sue scelte professionali e personali, condividendo momenti intimi legati alla sua famiglia, al suo passato e soprattutto al figlio Santiago. Nel corso dell'intervista, De Martino ha confessato che il suo principale motivo per lavorare tanto è proprio Santiago, il figlio nato dalla sua relazione con l'ex moglie Belen Rodriguez. «Lo faccio solo per mio figlio Santiago», ha ammesso Stefano, evidenziando quanto sia importante per lui riuscire a conciliare gli impegni lavorativi con il tempo da «dedicare al figlio». Per questo, ha raccontato di aver organizzato la sua agenda in modo da poter registrare le puntate di Affari Tuoi durante «La settimana», lasciando i fine settimana liberi per stare con Santiago. «Registro Affari Tuoi durante la settimana, perché il weekend è dedicato a lui. Sta crescendo e ha sempre più bisogno della mia presenza», ha spiegato il conduttore, mostrando un lato profondamente umano e dedicato alla paternità. Stefano ha anche rivelato un altro gesto significativo per la sua famiglia. Ha ricomprato la casa dei suoi nonni a Torre Annunziata, un luogo carico di memorie e affetti. «È stato un modo innanzitutto per ricambiare i sacrifici che i miei genitori hanno fatto per me in tutti questi anni, e soprattutto per conservare la memoria fisica di quelle mure e di tanti ricordi d'infanzia», ha dichiarato De Martino. La reazione del padre, notoriamente restio ad accettare i regali, è stata una delle più grandi soddisfazioni per Stefano, che ha voluto così onorare le sue radici e il percorso della sua famiglia. Non poteva mancare un riferimento al Varietà Bar Stella, un progetto televisivo che porta il nome del bar di famiglia, attivo per 120 anni grazie al bisnonno Michele e successivamente gestito dal nonno Stefano e dal padre. «Per non essere l'anello debole della catena, l'ho portato avanti a modo mio e quindi è diventato un programma televisivo», ha spiegato De Martino, sottolineando il suo desiderio di mantenere viva l'eredità della famiglia, adattandola alla sua carriera nel mondo dello spettacolo. Stefano ha poi raccontato del suo amore per la danza, una passione che ha ereditato dal padre, un ex danzatore che, pur conoscendo le difficoltà della vita d'artista, ha inizialmente cercato di dissuaderlo da quella strada. Non voleva che ballassi perché è un ex danzatore e quindi conosceva gli stenti della vita d'artista. Ha provato a dissuadermi in tutti i modi, ma a dieci anni si è dovuto rassegnare, ha ricordato De Martino. Questo episodio evidenzia come il conduttore abbia saputo perseguire i propri sogni, anche quando le circostanze sembravano avverse punto con il debutto ad Affari Tuai. Stefano De Martino continua a dimostrare la sua versatilità e il suo impegno nel mondo dello spettacolo, mantenendo però un forte legame con la famiglia e con il figlio Santiago, per cui è disposto a fare sacrifici e riorganizzare la propria vita professionale. Gioco contro il sistema e il dottore ha scherzato parlando del suo nuovo ruolo nel programma, ma ciò che emerge è la sua autentica volontà di mettere sempre al primo posto le persone care e di coltivare il valore della memoria e delle tradizioni. Stefano De Martino non è solo un volto noto della televisione italiana, ma anche un esempio di come si possa coniugare successo e dedizione familiare, unendo il passato e il presente in un percorso fatto di amore, passione e responsabilità. Mara Venier sta attraversando un periodo particolarmente difficile, segnato da problemi di salute e da un grave lutto che l'ha profondamente colpita. La conduttrice televisiva, amata dal pubblico per la sua conduzione di Domenica Inn, ha recentemente affrontato una serie di operazioni all'occhio a causa di un'emorragia retinica la cui origine resta tuttora sconosciuta. A complicare ulteriormente il quadro, L11 settembre ha perso un caro amico e collega, Luca Giurato, giornalista e conduttore con il quale aveva condiviso anni di lavoro e un rapporto di affetto e stima reciproca. Oltre al dolore per la perdita di Giurato, Mara Venier sta lottando per recuperare la sua salute. In un'intervista al settimanale Oggi ha rivelato di dover affrontare altre due operazioni all'occhio. Nonostante abbia manifestato un cauto ottimismo, finalmente sto bene ed è tornata la luce, ha dichiarato, riferendosi ai miglioramenti avvenuti dopo i precedenti interventi. Tuttavia, la conduttrice non nasconde le sue preoccupazioni. Le sue condizioni di salute potrebbero influire anche sulla sua carriera televisiva. Una delle notizie più preoccupanti riguarda il futuro delle stagioni dell'amore, un nuovo programma che Mara Venier avrebbe dovuto condurre il sabato. Il format, che si ispira a un dating show pensato per persone di una certa età, è stato accolto con qualche riserva dal pubblico, di che ricorda vagamente uomini e donne. Secondo quanto riportato dal sito Ultime Notizie Flash, il programma rischia di non andare in onda a causa degli impegni troppo pressanti dell'Avenier tra il sabato pomeriggio e la conduzione di domenica in la domenica. Mara stessa ha espresso i suoi dubbi riguardo la possibilità di gestire entrambi gli impegni televisivi, affermando, non sono sicura di poterlo fare. Questa incertezza ha alimentato le speculazioni sulla possibile cancellazione del programma, una decisione che deluderebbe molti fan, ma che appare sempre più probabile alla luce delle dichiarazioni della conduttrice. Le ultime dichiarazioni di Mara Venier lasciano aperta la possibilità di un drastico cambiamento nei suoi impegni televisivi, un passo che lei stessa ha definito doloroso ma necessario per salvaguardare la sua salute. Non so se ce la faccio, ha confessato. Lasciando intendere che potrebbe dover fare una scelta drastica tra i suoi vari impegni, priorizzando ciò che ritiene più sostenibile in questo momento delicato della sua vita. Il ritorno di domenica in, previsto per il 15 settembre, sembra non essere in discussione, ma la cancellazione di le stagioni dell'amore appare sempre più probabile. Questa possibile rinuncia rappresenta una scelta difficile per Mara Venier, che si trova a dover bilanciare la sua passione per il lavoro con la necessità di prendersi cura della propria salute. Nonostante le difficoltà, il pubblico continua a sostenere Mara Venier, dimostrandole affetto e solidarietà in questo momento complesso. La conduttrice ha sempre saputo conquistare i telespettatori con la sua genuinità e professionalità, e la sua decisione di mettere la salute al primo posto non fa che rafforzare l'ammirazione nei suoi confronti. Le prossime settimane saranno decisive per capire quale sarà il futuro televisivo di Mara Venier, ma una cosa è certa, qualsiasi decisione prenderà, lo farà con la consueta determinazione e l'inconfondibile sorriso che ha sempre caratterizzato la sua carriera. Mentre Mara Venier riflette sul suo futuro, gli amici e i colleghi del mondo dello spettacolo le stanno offrendo tutto il loro sostegno. Il suo coraggio nell'affrontare la malattia e il recente lutto ha ispirato molti, mostrando ancora una volta la sua forza interiore. Nonostante le incognite che si profilano all'orizzonte, Mara ha dichiarato di voler rimanere positiva, affermando «Voglio continuare a sorridere, perché la vita è troppo breve per non farlo». «Voglio continuare a sorridere, perché la vita è troppo breve per non farlo».